La drammaturgia contemporanea di un grande autore come Antonio Tarantino arriva al Teatro Lucio Dalla di Manfredonia per il 14esimo appuntamento di Futura, la stagione di prosa organizzata dal Comune di Manfredonia da Teatro Pubblico Pugliese e da Bottega degli Apocrifi. Venerdì 5 aprile andrà in scena Barabba, testo postumo di Tarantino portato in scena dai Teatri di Bari per la regia di Teresa Ludovico. Lo spettacolo racconta di un Barabba incarcerato che spia da dentro il momento cruciale per lui e l'umanità della fatidica decisione di salvezza tra lui e Gesù. Barabba è il protagonista di questa vorticosa opera di Tarantino, drammaturgo degli ultimi e della marginalità indagatore di personaggi storici e miti, che lancia in rotta di collisione i potenti e gli ultimi uniti dalla corruzione del linguaggio e dalla storia stessa. Barabba rivive così in un flusso incalzante, quasi integralmente in versi, dove si mescolano commedia e tragedia, con una costante il bisogno e la ricerca della verità, quella invocata da Pilato prima della sentenza. L'opera, l'ultima di Tarantino, ritorna alle origini del suo teatro dei margini e della sacralità, interpretato da Michele Schiano di Colla. Lo spettacolo è firmato dalla regista Ludovico, che torna a Tarantino, dopo aver dato voce a opere come Caramedea, Piccolo Antigo, nel 1982. Ho visto lo spettacolo Stabat Mater di Antonio Tarantino, interpretato da Piera degli Esposti, e sono rimasta affolgorata da quel potente flusso di parole fatte di carne, una scrittura magistrale che mi affascinava e mi intimoriva. Quando, qualche anno fa, Marco Martinelli ci propose uno studio per la messa in scena della Casa di Ramallah, ebbe un tuffo al cuore, ero entusiasta della proposta e impaurita dalla verbosità della scrittura. Dopo lo spettacolo presso la chiesa San Francesco da Paola, Teresa Ludovico e Michele Schiano di Colla saranno ospiti di artisti di stagione, la sede di incontri e conversazione con gli attori e i registi del cartellone del Dalla.